Grazie a tutti. Ha letto e meditato tutto il lavoro che un santo, Giorgio Lapira a proposito, ha fatto riguardo proprio l'integrazione, il lavoro col Medio Oriente, tutti gli incontri e i colloqui di pace. Ci vorrebbe. Quel lavoro è stato lasciato a metà, è stato disperso. Senza parlare di tutto quello che ha fatto per la Palestina, per la pace fra gli israeliani palestinesi, eccetera, eccetera. Anche perché oggi noi vediamo i non frutti di quello che non è stato fatto. Ed è una cosa molto triste. Però io vengo a dire poche cose. Anche perché ricordo, vorrei così, ricordare la figura di questo sindaco, che sicuramente l'ho conosciuto direi proprio abbastanza bene. Pur essendo su un banco opposto, ci siamo voluti bene, ci siamo stimati, mi ascoltava, mi chiamava, tant'è che la mia esperienza era un'esperienza che, grazie a Dio, tuttora vive. E cioè da 22-23 anni mi sono sempre interessato così di volontariato e quindi anche di immigrati. Tant'è che nel 1979, parlando con padre Casali, che qui a Bologna è morto, ben molti conoscono ancora, o almeno lo ricordano, mi disse che incontravamo dei clandestini. E lui disse, ma come clandestini? Eravamo nel 1979. Ah, disse, ma Paolo, sì 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 sì. Dopodiché mi chiese, io scrisse due articoli sulla rivista dei martedì, uno era proprio intestato, ricordo il titolo, era clandestini a Bologna, e l'altro perché nessuno dica non sapevo il problema dei clandestini. Tant'è che, e qui eravamo nel 1979-80, nel 1978 la nostra associazione, che sta qua in strada maggiore, diede vita, vivificò nuovamente un ambulatorio per immigrati, che è aperto tutti i giorni, anche stasera, anche domani, tutte le sere, immigrati, clandestini e poveri e marginati. È un'associazione che si regge con i proventi del palazzo, di cui è proprietaria, quindi cioè gli affitti in sostanza. Orbene, nel 1979, vedo qui Silvia Bartolini, arrivarono tutti questi immigrati e la città qui di Bologna ebbe attorno alla stazione, ma Cappane, Cappanini. Via Bartolini era pieno di Cappane, tant'è che di notte chiesi al fotografo, adesso poi vi dico il nome, e andammo a fare tutta una serie di fotografie che presentammo al sindaco, al prefetto e al cardinale. Era l'autunno, cioè l'inverno del 1979, tant'è che tanto fu l'onda d'urto che un accordo, cioè l'arcivescovo era il cardinal Biffi, non disse sono immigrati, sono clandestini, sono musulmani, disse chiese a noi giovani, io ero giovane, cosa facciamo? Ma non so se può, ma ve la sentite di tenere aperta la chiesa? Sì, sì, aprimo questa chiesa e tutta questa gente per un paio di mesi dormì a terra, tant'è che Silvia che era assessore poi si attivò, se ben ricordano, e nel tempo si sistemarono tutte queste persone senza tante chiacchiere. Quindi, a dire che cosa? Certo è che c'era un'intesa stretta fra le persone, fra il volontariato, fra gli amministratori, mentre non c'erano soldi che circolassero. Adesso sono le cooperative, controcooperative, poi tu fai, poi non fai, e l'esempio di Roma molto brutto, dobbiamo stare attenti, che potrebbe, diciamo, figliare da tutte le parti, da tutte le parti, si dice che si fa una cosa e poi non la si fa, ora si fa a metà. Allora, se si deve dare da lavorare alla gente, dobbiamo farlo con altri soldi. Quindi dico, ricordo proprio questo fatto, e al sindaco io andai un giorno bussando timidamente, no? Pur essendo un pochettino più vecchio di lui, lui mi mise seduto e gli disse, ma avevamo nel 1900, e qui il cardinal Poma, un grande, un grande, nel 1987 aveva dato vita ad una mensa, che partì proprio in strada maggiore, dove ha la sede attualmente appunto la mia associazione. E gli disse, ma la ricivescovo vorrebbe fare un'operazione di inizio, cioè una cosa vecchia, via Santa Caterina e trasformare. Immediatamente presi in mano la cosa, con i voti palesi in consiglio, la cosa si concluse, nel giro di due anni fu costruita questa vita, che tuttora vive, tuttora tutte le sere funziona. Questo per dire l'agilità e l'abilità di una persona buona e intelligente. Io voglio, potrei dire un sacco di cose, ma ne dico poche, e ne dico una solamente, molto bella. Molto bella. Io ho girato, giro, tocco con mano, ricevo le persone, e purtroppo gli amministratori oggi non ricevono più le persone. Ci sono i segretari, i controsegretari, i bidelli, sta fuori dalla porta, non venire. E allora questa qui non è la politica, perché se non si toccano le persone e non si sente i dolori, non serve a niente. Tutto per sentito dire, sul giornale, poi chi la spara più grossa, occupiamo, benissimo, l'occupazione è una cosa migliore. Dopodiché il povero che sta al dormitorio mi dice, ma Mengoli cosa stiamo facendo? Allora dobbiamo occupare anche noi. No, forse non è il caso. Gli immigrati che io conosco e che tocco, che vengono e sono proprio gli ultimi, quelli che quando il primo ministro dice che c'è la ripresa, questi qui la ripresa la vedono col binocchio, non vedono un tubo, non vedono. Questa è la verità. Sì, la vedono col binocchio. E allora con questi si fa a tu per tu dei discorsi veri, di reciprocità. Gli si dice, guarda, che qui tu devi rispettare il crucifisso, io ti rispetto, ci rispettiamo. Invece tutta questa demagogia che c'è in giro porterà sulle brutte strade. Quando io oggi leggo sul giornale che c'è un preside che dice, siccome c'è un bambino, quello a Milano, lo Zan, non si può, ma dico, ma stiamo scherzando, facciamo il male di questa gente. Proprio perché, come diceva la Magini, questa gente è venuta da un paese dove erano tiranni. Viene qui, si può fare tutto, facciamo tutto. Finisco con un aneddoto molto bello. Vado e sono andato a visitare i campi nomadi. Ce n'è uno in particolare che sta, vi ho detto, pochi minuti, al Bargelino. Andai a visitarlo e mi metto lì, c'era un problema di energia elettrica, che la luce non la pagano, il quartiere, tutto una sé. Allora io dico, ma guarda bene come si è messo bene. Adesso questo zingoro italiano è morto. Ah, dice, questa è qui, me l'ha regalata, resti in beni. Io rimasto, questa è la verità. Allora io rimasi. Ah, dico, ecco, allora io chiudo dicendo che ci vorrebbe della gente del genere. Adesso questa qui ce la sogniamo, anche vedendo quello che sta succedendo. I dispetti, le robe, le liti, uno contro l'altro. Ma siamo veramente fuori dal normale. La politica è servizio. Prima si deve avere un lavoro. Uno dice, vuoi fare la politica? Allora ti guardiamo il codice, la fedina penale, e poi se hai un lavoro, allora ti puoi candidare. Se non hai fatto un lavoro, tu non ti candidi. Questa è la serietà. Grazie. Grazie.